Buongiorno signore, che le preparo stamattina? Che misura? Perfetto, tre caffellatte, gravi, gradisce anche un dolcetto, no? Cappuccino, anche tre cappuccini. Tre cioccolati amari. Ah, è chiaro, desidera tre cd di polmecarni, ma certo. Sa, io amo i Beatles, sono la mia verità. E poi? Assassinato, hai fatto secco. No, ok, lei uccide me, arma, pam, 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 pancake. Lo so, sono un po' lento oggi. Ecco fatto, dunque, tre cappellatte, tre cappuccini, tre cioccolati amari e tre pancake. Nessun assassinato. Oh, e tre cd di polmecarni. Fanno 68 e 12. Di maniera. Simenti. Simenti. Grazie a tutti.